Finisce qui, finisce con la vittoria del Milan 2-1 ancora una volta Tonali a Verona Un Milan meno bello rispetto ad altre occasioni che ha ballato anche nel finale Sulla reazione fisica di Unelas Verona che ha dato una buona sensazione rispetto ai next precedenti Ma alla fine i tre punti sono del Milan, premio sport Alla fine i tre punti sono del Milan E come arrivano questi tre punti? Proviamo a dare una risposta, come? 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 Con quello che secondo me è il marchio di fabbrica della squadra rossonera Che soprattutto nei momenti di difficoltà, e oggi ce ne sono stati tanti in momenti difficili Perché credo che il Verona non demeritasse affatto Anzi, per inerzia credevo che alla fine in qualche modo portassero a casa almeno un pari da questa sfida Non è andata così, mi sbagliavo e mi sbagliavo di grosso Il Milan ancora una volta sa gestire i momenti della partita Vuoi o non vuoi resta in gioco Nonostante, come dicevo prima, il Verona con tanta intensità Ha gestito bene i momenti della gara e sembrava potesse veramente raccogliere Invece non è andato così perché da un momento all'altro il Milan è capace di ribaltarti l'inerzia Prima con quella triplice occasione, prima Teo, poi Rebic e compagnia cantante E poi trova l'imbucata, layout verticale per Rebic di prima tonali Transizione perfetta, gol e vittoria sofferta nel finale Ma vittoria, ma vittoria che non vale di certo meno Devo ritornare al concetto espresso oggi, devo farlo Perché è un concetto universale che si applica a tutte le squadre che appunto giocano in Europa L'ho detto e lo ripeto, in tanti oggi ridevano alla vittoria dell'Inter Stessa cosa dicasi per il Napoli, sì ma giocavano contro il Bologna Stasera il Milan giocava col Verona Quando giochi ogni tre giorni Vengono meno delle energie, non solo fisiche, anche nervose E sono queste, lo ribadisco, lo ripeto a gran voce Sono queste le partite che di Riff, di Raff devi portare a casa E chi ha la capacità di farlo ha sicuramente Ha sicuramente vita più lunga Vita più lunga Che può essere tradotto una classifica migliore Da qui alla fine del campionato Ne parliamo prima Come al solito vi voglio invitare a lasciare un like Iscrivetevi al canale se volete eseguire il recap Che vi butto lì domani mattina Dove trovate anche un'ampia parentesi su Atalanta-Sassuolo Intanto mi hanno detto, ma te la siete dimenticata? No, ogni video che ve lo sto ripetendo Ero al matrimonio, non sono riuscito a fare il video Ma lo ripetiamo ancora una volta Perché tanti commenti, ma non seguono quello che dico, evidentemente Per chi invece non se ne frega una mazza Ma vuole essere comunque aggiornato Ho aggiornato OneFootball Perché classifica, highlights delle partite, risultati Parole dei mister Tutti gli aggiornamenti, tutti gli approfondimenti E tutti gratuiti Quindi cogliete l'occasione Non fatevi scappare questa possibilità OneFootball Link in descrizione, ho qui il code Provatele E poi vedete un po' voi Sicuramente non ve ne pentirete Allora, l'ho detto prima E lo ripetisco Il Verona oggi stava bene Oggi stava bene Ho visto una supremazia territoriale Anche e soprattutto in mezzo al campo Dove lì forse le scelte di Pioli Ovviamente col seno del poi è sempre facile È sempre semplice Ma una di lì Che giustamente non avevamo in notaggio L'abbiamo visto poco Se non nella pre-season Oggi mi è sembrato molto lento Molto, molto svagato Giustamente, sai Ti buttano lì nel mezzo Nel prato E devi È un discorso che vale per tutti Devi avere minutaggio Devi avere minutaggio In realtà Un altro giocatore che ne aveva poco Ma che è stato buttato dentro nel finale Tio o Tio Come dice ciao Come lo chiamava Ciao si pronuncia Credo Tio Boh, non lo so Ditemelo voi Pardo diceva ciao Il difensore là In realtà quello ha salvato Due situazioni pericolose Una incredibile In spaccata È stato veramente bravo Ed è stato anche determinante Per il risultato finale Segno che Chi entra comunque Vuole in qualche modo incidere Vuole in qualche modo Essere protagonista E tutti si sentono coinvolti È un qualcosa che ripetiamo spesso Ma Lo ripetiamo perché È così Perché È abbastanza palese E lampante Vedi lo stesso Rebic Benasser Forse Anzi L'avrei messo prima Specialmente In una gara dove Ne hai meno Dell'avversario Sotto il punto di vista Della intensità Almeno cerca Di pareggiare Mettendoci un po' Di geometrie In mezzo al campo E quindi Benasser Secondo me In questa partita È mancato È mancato Nei primi 60 minuti Perché non giocava Ovvio che Non è che Quando poi è entrato Il Verona Il Verona Gli hai cacciato Il pallino Assolutamente no Il Verona Come dicevo Oggi è stato È stato È fatto una prestazione Importante Una prestazione Che secondo me Forse anche Quando cambia allenatore Forse comunque Resetti O vuoi o non vuoi I giocatori si sentono Almeno inizialmente Più motivati Poi alla lunga Si vedrà Ma oggi credo Che questo pure Abbia in qualche modo Inciso È stata una partita Ripeto Ci sono state D'episodio Una parte dall'altra Perché È partito meglio Il Verona Però ha trovato Il gol Il Milan Poi poteva raddoppiare Quindi magari anche Già chiudere Le speranze No E quindi in qualche modo Fare Sgretolare I sogni O comunque La prestazione Maiuscola Del Verona Cosa non è stata Perché il Verona È stato impartito Trovato anche Anche lui Il gol del pareggio E Sfruttando anche Un'indecisione Prima L'ha sfruttato Leao Quella di Miguel Veloso Poi Il Milan Ha sfruttato L'indecisione Di No il Milan Il Verona Quella di Gabbia Gabbia Che Secondo me Un po' Si sono sentite Le assenze Ecco Quando appunto Giochi ogni tre giorni Ha delle essenze Importanti Poi le senti Le senti Le avverti Quella di Gabbia Gabbia non credo Sia all'altezza Almeno ad oggi Non è all'altezza Di altri giocatori Dal mio punto di vista Tattarusano Vedi nell'uscita Nel finale Che va un po' A vuoto Comunque Non dita Le stesse garanzie Di Mignon E quindi Questo Diciamolo Perché comunque È abbastanza Chiaro Abbastanza Semplice Da appurare E comunque Ritorno al solito discorso Ritorno al discorso Di prima Queste gare Solitamente Non le vinci Solitamente Non le porti a casa Anzi Tutt'altro Puoi farti Travolgere Dall'avversario Invece Il Milan Ancora una volta Dimostra Quella Quella maturità Di cui ho spesso Parlato No Ho spesso parlato A più riprese In tanti Lo so Parleranno di fortuna Di questo Di quell'altro Io non la vedo così Quando un qualcosa È sistematico Nel tempo Non è fortuna Non ci credo Nelle coincidenze Non ci ho mai creduto Credo sempre di più Nell'analisi E negli approfondimenti È arrivata È arrivata questa vittoria Ragazzi C'è poco da fare C'è poco da dire C'è poco da Da aggiungere Sì Se non che questa è la quarta partita Che ho visto Se ci mette anche In parte Il derby O meglio Il classico di Spagna La quinta Quindi sono anche un po' Cotto Perdonatemi Se non sono Magari stato lucidissimo E niente Ragazzi Io che vi voglio dire Vi posso abbracciare forte A tutti Caramente Spero di non aver Dimenticato qualche punto saliente Importante Detto questo Vi abbraccio caramente E vi invito A seguirmi Se vi va Un grande abbraccio Daneschi